Barbara D'Urso, pseudonimo di Maria Carmela D'Urso, è una conduttrice televisiva, attrice e scrittrice italiana. Ha debuttato in televisione alla fine degli anni 70, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 e al programma della rete 2strix. Prima di proseguire volevamo riportarvi uno degli ultimi pettegolezzi che stanno girando in queste ore, riportati nell'articolo de Il Mattino, il cui messaggio è chiaro. Pare proprio che saranno in molti a seguire Amadeus sul Canale 9, il quale ritroverà colleghi come Fabio Fazio, Luciana Lettizzetto, Maurizio Crozza, e così via. Dalle ultime indiscrezioni pare che Barbara D'Urso e Belen potrebbero essere le prossime a fare le valigie verso la nuova emittente. In molti pensavano sarebbero finite i Rai. Ma ovviamente tutto può cambiare alla velocità di un battito di ciglia. Ovviamente questi sono solo rumors. Non sappiamo quindi quali saranno i piani lavorativi delle due conduttrici, così come quelli di Fiorello. Anche lui al centro dell'attenzione in questo momento. Che dire, non ci resta che attendere conferme ufficiali dai diretti interessati. Tornando a noi, non sappiamo nulla in merito alla vita privata di Barbara D'Urso, in quanto così come quella lavorativa, per il momento è top secret. Però una cosa la sappiamo. Barbarella è innamorata di lui, del vino bianco, con il quale è stata pizzicata insieme più volte durante eventi mondani e o lavorativi. Con la solita grazia che la contraddistingue, Carmelita è scicca anche, con un calice in mano. Ovviamente la conduttrice lo consuma con moderazione. Ma sicuramente ogni volta che si incontrano non è soltanto una festa, ma è anche una botta di vita pazzesca. Soprattutto nel periodo affoso dell'estate, un prosecchino bello fresco per citare Giovanni in Chiedimi se sono felice. È quello che ci vuole.